Sei qualcosa del bambù cinese? Una pianta alta, snella e dalle altezze considerevoli. Come ogni pianta nasce da un seme. Quando viene piantato questo seme richiede cura, molta cura. Viene innaffiato ma soprattutto richiede lunga attesa. Devi sapere che soltanto verso il quinto anno il seme di bambù comincia a germogliare. Ma una volta germogliato nel giro di un mese e mezzo riesce a crescere per circa due metri e mezzo, tre metri e da questo momento in poi è capace di crescere anche un metro al giorno. Cosa ci insegna il bambù cinese? Che per vedere dei risultati tante volte occorre aspettare all'uno, ma la paziente attesa prima o poi porterà dei risultati e una volta che cominceranno ad arrivare saranno uno dietro l'altro. Caro amico, se stai curando, seminando, se hai piantato e stai aspettando, non temere, continua ad aver pazienza e quando meno te lo aspetterai il tuo bambù comincerà a germogliare e a crescere in maniera considerevole. Fida pure nel Signore e nel suo aiuto. Dio ti benedica. Grazie.